E' vero che la casa della salute che viene proposta è anni luce lontano da quella che abbiamo in mente noi, però cerchiamo di capire anche gli elementi positivi. Intanto già il fatto di mettere insieme gli operatori che lavorano nello stesso posto non è una cosa trascurabile, questo non è una cosa trascurabile per gli operatori innanzitutto e non è una cosa trascurabile per i pazienti, vuol dire accorciare dei tempi e migliorare le comunicazioni, per cui di per sé se anche lo riesce un discorso politico io lo vedo già come una cosa positiva, lasciamo stare la parte economica, le convenienze in una degli anni. E oltretutto è più semplice andare a creare contraddizioni dagli operatori stessi e tra i cittadini utenti, perché se tu hai un luogo fisico ben preciso dove le vecchie cittadini utenti ad esempio che hanno una volta i loro studioli, allora è diverso per lavorare su una struttura dove è più facile creare contraddizioni. Io penso che questo quindi, è chiaro che a noi non fa bene questa cosa qui, però non possiamo, penso che in questo momento la tattica sia quella di dire o come la vogliamo noi o no, sia va bene questo e prendiamo a seguito e qui lavoriamo, secondo me è comunque un passo avanti, ci semplifica lavorare qui che non nelle situazioni in cui siamo adesso.